Gaetano Curreri, il cantante degli Stadio, ha avuto un malore nella sera di venerdì 30 luglio mentre era in concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto. L'artista è ora ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni, secondo le ultime informazioni trapelate, sarebbero stabili. La conferma arriva anche dalla pagina ufficiale degli Stadio che scrive Ciao a tutti, come sapete Gaetano ha avuto un malore, in questo momento in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l'affetto, buonanotte.